Commentando la storia che coinvolge giudice Catania. Presidente di ANM Giuseppe Santa Lucia osserva non so come idee video perché nessuno ci ha detto da chi e dove vengono quelle immagini. Già circolano online. Se lo è era stato broadcast in televisione o appartiene alle forze polizia come sembrerebbe dal modo in cui le riprese sono state fatte. Salvini caso è un motivo per un serio imbarazzo per le istituzioni ascolta e le articolo il caso rilasciato da Matteo Salvini giudice Catania Iolanda. Apostolic che cancellato detenzione quattro migranti nel CPR Pozzallo rinnegando decreto cutro. Durante un evento del 2018 Catania a cui esce ha chiesto l'atterraggio dei migranti dalla nave. Diciotti suscitare i dubbi sull'ANM e anche l'origine film cinque anni dopo. Mi invenderò e un video quando questo magistrato non convaliderà detenzione tre migranti. Nell'applicazione del così chiamato decreto cutro dice presidente Giuseppe Santa Lucia non so come. Ideare perché nessuno ci detto da chi dove vengono quelle immagini. Sono già circolate online. Se fossero state trasmesse televisione o appartiene le forze polizia come sembrerebbero dal modo. Sono state eseguite le riprese. Dietro polizia che contengono processione. Questo mi sembra più grave. Il caso è un motivo per un serio imbarazzo per le istituzioni. Conto sulla collaborazione e tutto ciò che prevalgono il buonsenso e l'equilibrio. Ha detto Salvini in un video. Girato appena prima di partire per Palermo oggi partecipa alla classe bunker dell'uccello del processo Open Santa Lucia perché il video si è diffuso cinque anni dopo. Se il fatto è così grave e scandalizza così tanto perché agisci cinque anni dopo e non immediatamente. Il sospetto che è fatto per cui alcune misure non sono benvenute di The Judge più che fondata. Ordina Santa Lucia. Supponendolo sia inappropriato facendo riferimento alla partecipazione del giudice apostolico nella. Manifestazione video non sono quello che ha dovuto valutarlo ma i tribunali cosa toglie dalla. Gravità di ciò sta accadendo. Salvini e il giudice di Catania in un video su X vedo i volti della famiglia in depth. Migrants. Estensione cdm di sei mesi lo stato di emergenza sono preoccupato per la Cina che prendi. Afferma Santa Lucia. Mentre il CSM è diviso sul caso. Lid anche migranti. Al CSM ha presentato la pratica per proteggere il giudice di Catania.